Le cose più importanti a cui fare attenzione quando ci si avvicina al termine di gravidanza credo siano sostanzialmente tre. La prima avrete imparato a riconoscere i movimenti del bambino. Normalmente quando si arriva a 38 o 39 settimane il liquido ammiotico un po' si riduce per cui la intensità dei movimenti, la forza dei movimenti vi sembrerà ridotta. In realtà c'è meno spazio e quindi i movimenti li percepite come se fossero un po' più attenuati e questo è normale. Quindi imparare a riconoscere i movimenti del bambino. La seconda cosa è essere sicuri che il vostro peso e la vostra pressione siano normali e non abbiano degli improvvisi aumenti. Questo è una facile da capire, sarà il vostro ginecologo, la vostra ostetica che vi educherà a farlo. Ecco, la terza cosa è continuare ad avere uno stile di vita regolare e corretto. Quindi una buona alimentazione, verdura, frutta, pesce, uova, noci, niente zuccheri, anche la pasta e il riso nostro, classic, i nostri primi piatti, non due volte al giorno, più raramente, ben conditi con dell'olio extravergine, niente burro. E per quanto riguarda l'attività fisica, mantenere la vostra attività fisica così come vi sentite di farla. Lunghe passeggiate, se fate nuoto, nuoto, se fate pilates, quindi tenere anche a termine, per quanto potete col pancione, avere una buona alimentazione, avere una buona attività fisica, monitorare i movimenti del bambino, controllare il peso e la pressione.